Il CTS suggerisce di estendere il Green Pass anche agli studenti over 12 anni, lei cosa ne pensa? Il CTS, ovviamente quanto dirà il CTS per noi è un'indicazione di sicurezza che quello che dice il CTS ovviamente lo valeremo in Consiglio dei Ministri e lo valeremo insieme soprattutto con i colleghi della salute.